E' il momento dell'appello al voto. Antonio Scalera, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia domani, fitto presidente. Ecco, immagini di avere dinanzi a sé l'elettore. Cosa gli dice per convincerlo a barrare il simbolo della sua lista e scrivere Scalera? Io ritengo che in questa fase chi si propone ad essere candidato al Consiglio regionale non solo deve essere un conoscitore del territorio, ma non deve essere un improvvisato in politica. Io appartengo alla politica e ho una lunga esperienza politica e amministrativa. Ho iniziato nel 1995 quando ho fatto il consigliere comunale, poi sono stato consigliere provinciale, poi ho fatto l'assessore provinciale. Sono stato anche in regione consigliere regionale di opposizione e io credo che in questi anni ho dato tutto quello che ho potuto al territorio, sia quando ero maggioranza che quando ero opposizione. Nel mio lungo percorso politico, se oggi si parla di università a Taranto, se oggi si parla di innovazione per quanto riguarda i vari comparti, se oggi si parla di amministrazione, per esempio quando sono stato assessore provinciale ho sbloccato le calamità naturali che erano ferme da vent'anni a Taranto e provincia per dare ristoro ad un comparto che non solo è stato abbandonato, ma è stato calpestato da chi fino ad oggi ha amministrato questo territorio. Io dico agli elettori, votare si perde forse nella gabbina 30 secondi, in 30 secondi per noi ci giochiamo 5 anni della nostra vita. Quindi mettere una croce, su un simbolo e scrivere un nome, io dico che bisogna riflettere e individuare le persone che oggi meglio possono rappresentare questo territorio, bisogna individuare quelle persone che hanno sempre lavorato al servizio della gente e che hanno sempre lavorato per il bene comune. Io appartengo a questa categoria di persone che vedono in questo territorio una grande risorsa, solamente che è come un territorio che pur avendo le potenzialità e le risorse non è stato mai valorizzato così come doveva essere. Vorrei fare un ultimo appello a tutti i miei concittadini, andate a votare, questa volta è importante, anzi è più importante delle altre volte. Taranto e la provincia non possono rimanere fuori da questo contesto pugliese. Dico a tutti quanti esprimete con cognizione e con riflessione il vostro giudizio, il vostro voto e invitate tutti quanti ad andare il 20 e 21 di settembre a votare e a recarsi alle urne per votare. Grazie.